Un laboratorio artistico per mettere nero su bianco lo spirito di accoglienza della nostra città. A partire da oggi in tutto il quartiere di Veronetta saranno esposti sui balconi e sulle finestre delle abitazioni gli striscioni frutto della giornata di oggi in via 20 Settembre nei giardini dell'ex scuola Nani. È un modo per celebrare sia la giornata per l'eliminazione delle discriminazioni razziali, fissata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per giovedì prossimo, il 21 di marzo, sia per la più ampia settimana contro il razzismo che partirà lunedì. È un'iniziativa che è nata a Milano, l'abbiamo riprodotta, l'abbiamo riprodotta qui oggi, si terrà soltanto a Veronetta con la speranza che in futuro sia una buona pratica che possa spandersi per tutta Verona. Grandi e piccoli quindi si sono dati da fare con pennello e colore scegliendo la frase che per loro risultava più significativa tra le 50 proposte. Abbiamo scelto noi alcune frasi, poi qualcun'altra una proposta che voleva, e l'obiettivo era che ci fossero delle frasi contro il razzismo ma anche delle frasi positive di accoglienza e che fosse anche un momento di incontro per gli abitanti del quartiere che prima di appenderle fisicamente sui balconi si ritrovano in questo spazio e insieme lavorano e dipingono, è qualcosa di artistico. Per coronare questi sette giorni di sensibilizzazione ci sarà una marcia sabato 23 marzo organizzata sempre dal cartello Nella mia città nessuno è straniero. Ci piacerebbe che chi appende uno striscione sul suo balcone poi partecipassi anche alla marcia organizzata dal cartello Nella mia città nessuno è straniero. Sabato 23 marzo alle 3 di pomeriggio parte dalla stazione e ci piacerebbe che prendessero gli striscioni che hanno creato e li portassero a questa marcia che sarà molto festosa e sarà un po' la chiusura di tutta la settimana.